entusiasmologia fabio marchesi introduzione secoli di insegnamenti volti a generare più sudditi infelici ma obbedienti che individui liberi ed indipendenti una cultura del senso di colpa e della paura che rende incapaci di essere baciati dalla fortuna vertici delle gerarchie umane occupabili più facilmente dai incapaci se i governati sono tenuti indebitati e in un diffuso senso di ingiustizia e di impotenza rendersi felice fortunati è un'arte straordinariamente individuale che richiede solo un po di audacia per affrontare un cambiamento radicale della prospettiva dalla quale si osserva se stessi alla vita per riuscire ad accorgersi di chi si è veramente e di quello che davvero si vuole e si può fare senza limitarsi al solo sperare entusiasmologia per entrare in diretta relazione con l'essenza più grande di se stessi senza più bisogno di maestri o aiuti esterni per superare infelicità mancanza e crisi facendo della propria vita un capolavoro di gioia generata vissuta e condivisa premiati direttamente da se stessi e dalla vita